C'è un sindaco per questa cittadina? E' molto interessante per tutti, sia i ragazzi sia per i ragazzi ma anche per noi insegnanti. Abbiamo visto delle cose bellissime, abbiamo incontrato gente interessante e simpatica e la voglia più forte che abbiamo è di tornare quanto più presto possibile. E' molto contenta, molto soddisfatta e se è andata così bene è stato merito di tutte le persone che hanno collaborato, l'associazione Aquiloni, l'associazione Gemellaggio, le scuole di Argenta e l'amministrazione comunale. Quindi l'importante al di là dell'organizzazione è che i ragazzi si siano divertiti, quindi sono molto soddisfatta. Noi speriamo che ci siano altre occasioni come queste, ovviamente dobbiamo appoggiarci sulle scuole per organizzare questi scambi, però la nostra speranza è di coinvolgere i più giovani possibili in questa esperienza. I giovani mettono l'entusiasmo, la voglia di scoprire persone nuove, scoprire anche paesi nuovi perché alla fine anche i nostri ragazzi sono stati in Francia quindi hanno avuto modo di vedere le abitudini francesi, quindi ci mettono tutto il loro entusiasmo e con la buona volontà e al di là della lingua alla fine è l'amicizia che conta. Beh, posso dire che l'associazione Gemellaggio ha bisogno di persone che collaborano, persone che hanno voglia anche di scoprire un nuovo paese come la Francia quindi speriamo che in futuro, nei prossimi mesi, ci siano più persone che si avvicinino all'associazione. Il rapporto con le scuole è stato direi ottimo perché comunque il loro contributo è stato fondamentale, perché l'associazione ha comunque bisogno di collaborare, di confrontarsi con gli insegnanti. Dopodiché sono gli insegnanti che devono coinvolgere i giovani delle loro classi. Noi siamo una comunità del Comune di Argenta e quindi una frazione del Comune di Argenta e dato che Argenta è gemellata con Castelnò noi desideravamo dare anche noi il nostro contributo a questa manifestazione, a questa partecipazione e quindi abbiamo chiesto di poter organizzare questa serata e di organizzarla come noi riteniamo sia bello fare, cioè quello di ritrovarsi insieme, non solo i giovani ma tutte le persone che questa sera hanno confluito qua. Quindi non solo i ragazzini ma penso proprio i genitori e la comunità intera. I giovani francesi li ho trovati come giovani italiani con le stesse modalità di comportamento, di modi di fare e anche originalità e piacevole convivenza. A me questi ragazzi mi sono sembrati dei ragazzi piacevolissimi, voglia di stare insieme e lo stanno dimostrando adesso con il ballo, un ballo aggregativo che li sta coinvolgendo tutti, quindi secondo me è una bella gioventù. Se noi avremo la capacità di curarle e di sostenerle secondo me sarà un buon prodotto.